ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale io sono big e siamo qui con un nuovo video oggi si parla di serie tv quinto appuntamento con la nostra rubrica la serie del giorno spero che questa rubrica vi piaccia che ovviamente vi dia degli spunti utili per trovare qualcosa di carino da guardare su su netflix su prime video insomma sulle le piattaforme on demand che ormai vanno per la maggiore ma prima ragazzi di procedere con la serie del giorno vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like al video di commentare qua sotto facendomi sapere cosa ne pensate di quello che vi ho proposto fino ad oggi e vi ricordo che abbiamo anche una pagina instagram una pagina twitch entrambe siamo big us and the score official ragazzi vi parlo di twitch perché fra poco ricomincieremo con fifa 21 quindi se siete appassionati di gaming passate sul nostro canale twitch lasciate un follow possibilmente una sub e ben presto ricomincerà la stagione su fifa 21 quindi non perdetevi nessuna delle prossime live ma veniamo al tema del giorno oggi ragazzi vi parlo di you you è una serie che potete trovare su netflix sono presenti sulla piattaforma le prime due stagioni tra dieci episodi luna le episodi durano tra i 40 e i 50 minuti quindi un'oretta in compagnia di joe dolberg il protagonista della serie in attesa che netflix pubblichi la terza stagione me l'aspetto per per dicembre insomma per fine anno ridosso inutale dovrebbe arrivare la terza stagione ma di che cosa parla you you parla di joe dolberg questo libraio di brooklyn che si innamora di genevieve beck questa ragazza che va a comprare libri nella sua libreria e per joe dolberg questa ragazza diventa prima un'infatuazione poi una vera e propria ossessione e joe dolberg diventa lo stalker di questa ragazza ragazzi la serie è inquietante non non ve lo nascondo però a differenza di the stranger che so se vi ricordate vi dissi che aveva bisogno almeno un paio di episodi di rodaggio questa qua diventa una droga quindi non ha bisogno di rodaggio vi prenderà sicuramente da subito se è la serie che fa per voi e vi mangerete puntata dopo puntata almeno io ho fatto così quindi you consigliatissima su netflix due stagioni 20 episodi in totale da non perdere quindi ragazzi per oggi è tutto spero che questo consiglio sia apprezzato e vi do appuntamento al prossimo episodio ragazzi il prossimo episodio si parlerà di una serie veramente lunga ma che merita quindi non perdetevi il prossimo appuntamento alla prossima ciao ehi tu non stare giù iscriviti a bugger il prossimo episodio